Buongiorno a tenere l'amore di Cristo Gesù, sono Nicodemo Fabiano, questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Noi siamo qui tutti i giorni per la grazia di Dio, ormai da abbastanza tempo, perché stiamo leggendo l'intera parola di Dio. Abbiamo incominciato Genesi capitolo 1, versetto 1, e noi concluderemo a breve Apocalisse, l'ultimo capitolo di Apocalisse. Allora, noi oggi, quest'oggi, non leggeremo Apocalisse, ma noi leggeremo il libro di Atti degli Apostoli, siamo arrivati al capitolo 14 e 15, due capitoli che noi leggeremo questa mattina. Quindi leggiamo insieme la parola del Signore. Anche a Iconio, Paolo e Barnaba entrarono nella sinagoga dei giudei e parlarono in modo tale che una gran folla di giudei e di greci credette. Ma i giudei, che avevano rifiutato di credere, aizzarono e inasprirono gli animi dei pagani contro i fratelli. Tuttavia, rimasero là per molto tempo, predicando con franchezza e confidando nel Signore, che rendeva testimonianza alla parola della sua grazia, e concedeva che per mano loro avvenissero segni e prodigi. Ma la popolazione della città era divisa. Gli uni tenevano per i giudei e gli altri per gli apostoli. Ma quando ci fu un tentativo dei pagani e dei giudei, d'accordo con i loro capi, di oltraggiare gli apostoli e lapidarli, questi lo sepero e fuggirono nelle città di Licaonia, Listra e Derba e nei dintorni, e la continuarono a evangelizzare. A Listra c'era un uomo che, paralizzato ai piedi, se ne stava sempre seduto e, siccome era zopo fin dalla nascita, non aveva mai potuto camminare. Egli udì parlare Paolo, il quale fissati gli occhi su di lui e, vedendo che aveva fede per essere guarito, disse ad alta voce, Alzati in piedi! Ed egli saltò su e si mise a camminare. La folla, veduto ciò che Paolo aveva fatto, alzò la voce dicendo in lingua Licaonica, Licaonica. Gli dei hanno preso forma umana e sono scese fino a noi. E chiamavano Barnaba, Giove e Paolo Mercurio, perché era lui che teneva il discorso. Il sacerdote di Giove, il cui tempio era l'entrata della città, condusse davanti alle porte Tore, Ghirlande e voleva offrire un sacrificio con la folla. Ma gli apostoli Paolo e Barnaba, udito ciò, si strapparono le vesti e balzarono in mezzo alla folla, gridando. Versetto 15 Uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani come voi e vi predichiamo che da queste vanità vi convertiate al Dio vivente che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Egli, nelle generazioni passate, ha lasciato che ogni popolo seguisse la propria via, senza però lasciare se stesso privo di testimonianza, facendo del bene, mandandovi dal cielo pioggia e stagioni fruttifere, dandovi cibo in abbondanza e letizia nei vostri cuori. E con queste parole riuscirono, astento, a impedire che la folla offrisse loro un sacrificio. Allora giunsero da Antiochia e da Iconio alcuni giudei, i quali sobillarono la folla e si lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori della città, credendolo morto. Ma mentre i discepoli venivano attorno a lui, egli si alzò ed entrò nella città. Il giorno seguente partì con Barnaba per derba. E dopo aver evangelizzato quella città, e fatto molti discepoli, se ne tornarono all'Istra, a Iconio e ad Antiochia, fortificandogli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Dopo aver designato per loro degli anziani in ciascuna chiesa e aver pregato e digiunato, li raccomandarono al Signore nel quale avevano creduto. Quindi, attraversata la Pisidia, giunsero in Panfilia. Dopo aver annunciato la parola a Perga, scesero ad Attalaia. E di là salparono verso Antiochia, da dove erano stati raccomandati alla grazia di Dio per l'opera che aveva compiuta. Giunti là e riuniti alla chiesa, riferirono tutte le cose che Dio aveva compiute per mezzo di loro e come aveva aperto la porta della fede agli stranieri. Versetto 28, l'ultimo versetto di questo capitolo, dice E rimasero con i discepoli per parecchio tempo. Atti, capitolo 15, parola del Signore. Alcuni venuti dalla Giudea insegnavano ai fratelli dicendo Se voi non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati. E siccome Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano vivacemente con loro, fu deciso che Paolo, Barnaba e alcuni altri fratelli salissero a Gerusalemme dagli apostoli anziani per trattare la questione. Essi dunque accompagnati per un tratto dalla chiesa attraversarono la Fenicia e la Samaria raccontando la conversione degli stranieri e suscitando grande gioia in tutti i fratelli. Poi, giunti a Gerusalemme, furono accolti dalla chiesa, dagli apostoli e dagli anziani e riferirono le grandi cose che Dio aveva fatte per mezzo di loro. Ma alcuni della setta dei farisei che erano diventati credenti si alzarono dicendo Bisogna circonciderli e comandar loro di osservare la legge di Mosè. Allora gli apostoli e gli anziani si riunirono per esaminare la questione ed essendone nata una vivace discussione, Pietro si alzò in piede e disse Fratelli, voi sapete che dall'inizio Dio scelse tra di voi me affinché dalla mia bocca gli stranieri udissero la parola del Vangelo e credessero. E Dio, che conosce i cuori, rese testimonianza in loro favore dando lo Spirito Santo a loro come a noi e non fece alcuna discriminazione fra noi e loro purificando il loro cuore mediante la fede. Or dunque, perché tentate Dio mettendo sul colo dei discepoli un gioco che ne è pari né i nostri padri né noi siamo stati in grado di portare? Ma noi crediamo per essere salvati, mediante la grazia del nostro Signore Gesù allo stesso modo di loro. Tutta l'assemblea tacque e stava ad ascoltare Barnaba e Paolo, che raccontavano quale segni prodigi Dio aveva fatti per meso di loro tra i pagani. Quando ebbero finito di parlare, Giacomo prese la parola e disse Fratelli, ascoltatemi, Simone ha riferito come Dio all'inizio ha voluto scegliersi tra gli stranieri un popolo consacrato al suo nome e con ciò si accordano le parole dei profeti come sta scritto. Dopo queste cose ritornerò e ricostruirò la tenda di Davide che è caduta e restaurerò le sue rovine e la rimetterò in piedi, affinché il rimanente degli uomini e tutte le nazioni su cui ha invocato il mio nome cerchino il Signore, dice il Signore che ha fatto queste cose. A Lui note fin dall'eternità, perciò io ritengo che non si debba turbare gli stranieri che si convertono a Dio, ma che si scriva loro di astenersi dalle cose contaminate nei sacrifici agli idoli, dalla fornicazione, dagli animali soffocati e dal sangue. Versetto 21 Perché Mosè fin dalle antiche generazioni ha in ogni città chi lo predica nelle sinagoghe dove viene letto ogni sabato. Allora parvi bene agli apposti e agli anziani con tutta la Chiesa di scegliere tra di loro alcuni uomini da mandare ad Antioca con Paolo e Barnaba, Giuda detto Barsaba e Sila, uomini autorevoli tra i fratelli. E consegnarono loro questa lettera, i fratelli apostoli anziani ai fratelli di Antioca, di Siria e di Cilicia che provengono dal paganesimo salute. Abbiamo saputo che alcuni fra di noi, partiti senza nessun mandato da parte nostra, vi hanno turbato con i loro discorsi e sconvolgendo anime vostre. È parso bene anche a noi riuniti di comune accordo di scegliere degli uomini e di mandarveli insieme ai nostri cari Barnaba e Saulo, i quali hanno messo a repentaglio la propria vita per il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Vi abbiamo dunque inviato Giuda e Sila, anche esse vi riferiranno a voce le medesime cose. Infatti è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso all'infuore di queste cose che sono necessarie, di astenervi dalle carni sacrificate agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati, dalla fornicazione, da queste cose farete bene a guardarvi se state sani. Essi dunque presero comiato e scesero ad Antiochia dove era donata la moltitudine dei credenti e consegnarono la lettera. Quando i fratelli l'ebbero letta, si rallegrarono della consolazione che essa portava loro. Giuda e Sila, anche essi profeti, con molte parole li esortavano e li fortificarono. Dopo essersi trattenuti là diverso tempo, i fratelli li lasciarono ritornare in pace a coloro che li avevano inviati. Ma parve bene a Sila di rimanere qui. Paolo e Barnaba rimasero ad Antiochia insegnando e portando insieme a molti altri il lieto messaggio della parola del Signore. Dopo diversi giorni, Paolo disse a Barnaba, ritorniamo ora a visitare i fratelli di tutte le città in cui abbiamo annunziato la parola del Signore per vedere come stanno. Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni detto Marco, ma Paolo riteneva che non dovessero prendere uno che già si era separato da loro già in panfiglia e non li aveva accompagnati nella loro opera. Nacque un aspro dissenso al punto che si separarono. Barnaba prese con sé Marco e si imbarcò per Cipro. Paolo invece scelse Sila e partì, raccomandato dai fratelli alla grazia del Signore, e percorse la Siria e la Cilicia rafforzando le chiese parola del nostro Signore. Quindi noi abbiamo letto Atti capitolo 14 e capitolo 15, importantissimo qui il primo concilio di chiesa, proprio quello a Gerusalemme. Quindi mi raccomando, leggiamo, comprendiamo e applichiamo questa parola nel nostro cuore. Ti do l'appuntamento per domani. Questa sera abbiamo l'incontro di preghiera a Cesena in via Romagna 268 dalle ore 20. Che Dio ti benedica nel nome di Gesù. E mi raccomando, metti un like e condividi. E mi raccomando, metti un like e condividi.